Non sono pochi i problemi pratici quotidiani dei giganti come Giovanni Fabrizio Pieracci ci presenta un altro gigante, vediamo Beh, voi dicevate che ero alto 2 metri e 1, in realtà non è proprio così Sono 2 metri e 2, certo, questo mi ha creato qualche problema Per esempio, prendiamo il letto, normalmente un letto è lungo 2 metri, quindi meno di me Questo l'ho dovuto fare di 2 metri e 20, e così anche le lenzuola e le coperte E per i vestiti, anche lì, questi pantaloni 1 metri e 15, non è poco, però anche qua oggi c'è un'offerta tale che si riesce a soddisfare anche le esigenze di chi come me è fuori misura Ma il problema più grosso che ho è quello delle scarpe Avendo un 49, 33 cm di scarpa, non ha facilità a trovare scarpe soprattutto da passeggio Quelle sportive tanto tanto, ma per le altre come si fa? Salve, serve aiuto? Sì, cercavo un paio di scarpe come queste, se ce le avevi però nere Sì, che numero? 49 Vado a prenderle, è comoda intanto Ecco le scarpe Oh, sono proprio contento Pensa che ho trovato la vostra pubblicità sul Toll Club, il sito delle persone alte E non immaginavo di trovare un negozio che avesse le scarpe grandi A tutta questa scelta Pensa che il Toll Club l'ho fondato io E beh, sono alto un mese di 85, poi porto anche 43 di scarpe Quindi ho fatto di necessità virtù e mi sono aperto anche il negozio Bene Sì, fanno proprio bene Ne prendo Bene E ora anche il problema scarpe lo abbiamo risolto Ciao a tutti amici di SAT2000 Veramente simpatico il nostro amico Giovanni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti